Ci troviamo oggi nella nuova sede produttiva nel nuovo stabilimento di Altec. Altec sta conoscendo costantemente una crescita per quanto riguarda la propria produzione e si è dovuta spostare per potersi ampliare. Ci troviamo quindi nella nuova sede che è circa di 10.000 metri quadrati ma ci spiegherà meglio quella che è stata un po' l'evoluzione degli ultimi mesi l'amministratore delegato Paolo Salvini. Paolo buongiorno. Buongiorno. La decisione di ampliarci è una decisione che risale a più di due anni fa dovuta soprattutto al fatto che i nostri numeri sono rimasti in costante ascesa per gli ultimi anni e la cosa ci ha dato fiducia. Abbiamo osservato che i nostri prodotti stavano avendo grande successo sul mercato. L'area produttiva che occupavamo in precedenza stava iniziando a diventare un po' stretta e quindi abbiamo detto facciamo questo salto, questo investimento e muoviamoci in una nuova sede. Circa due anni fa abbiamo iniziato a ristrutturarlo. La ristrutturazione è stata molto pesante anche perché il capannone esistente non includeva una palazzina uffici di cui noi avevamo bisogno e quindi abbiamo costruito Ex Novo, una palazzina uffici adiacente riproducendo quella che era la logica produttiva dello stabilimento precedente che si era rivelata efficiente. Quindi area produttiva e uffici interconnessi, persone che potevano interagire e scambiarsi l'attività lavorativa in modo molto veloce ed efficiente. La ristrutturazione ha voluto non solo portare metri quadri aggiuntivi ma anche creare un ambiente di lavoro che fosse molto più confortevole per le persone, che avessero luce naturale il più possibile in abbondanza, un ambiente climatizzato e infatti abbiamo portato la climatizzazione anche nell'area produttiva, il fresco d'estate e il caldo d'inverno e l'abbiamo dotata di tutti quei piccoli comfort che possono rendere la giornata lavorativa un po' più piacevole sia dal punto di vista dell'illuminazione che della climatizzazione come ho detto. Abbiamo prestato anche attenzione a piccoli particolari, per esempio nell'area con l'Audi abbiamo procurato delle discese dell'aria compressa e della corrente elettrica dall'alto per evitare i fili per terra, gli inciampi perché fosse più facile pulire per terra in modo che l'ambiente possa rimanere pulito e ordinato e più possibile. Quindi insomma è stato un ampliamento dal punto di vista della metratura ma anche un miglioramento delle condizioni di lavoro e di conseguenza un ulteriore miglioramento anche della qualità del prodotto che Altec fa. Sì, certamente sì, le cose sono abbastanza collegate, i nostri prodotti per fortuna sono apprezzati su tutti i mercati mondiali e chi più chi meno, devo dire, noi vendiamo le nostre etichettatrici in tutto il mondo tramite una rete di un'ottantina di concessionari sparsi in 50 paesi. Quali sono un po' le caratteristiche, le peculiarità del servizio che voi offrite? Ma diciamo che il nostro modello produttivo e commerciale è abbastanza peculiare perché pur producendo un prodotto customizzato, cioè costruito sulla base di specifiche esigenze del cliente e quindi la maggior parte delle macchine che escono dalla nostra area produttiva sono macchine uniche, cioè realizzate progettando la macchina intorno al prodotto del cliente ma anche le esigenze del cliente in termini di ergonomia, in termini di velocità produttiva, in termini di spazi che lui ha disponibili per mettere la macchina, spesso anche queste cose sono molto vincolanti. Bene, dicevo, nonostante siano macchine uniche costruite su misura, vengono però poi prodotte e commercializzate tramite una catena distributiva basata su concessionari che si occupano di seguire il cliente in loco perché ci siamo resi conto che la macchina deve essere supportata a costi e con tempi più piccoli possibili e quindi serve un supporto locale. Questa è un po' la chiave del successo del nostro sistema. Tra l'altro le etichettettrici, pur essendo macchine che guardarle da fuori sembrano piuttosto complesse, non sono macchine dal costo particolarmente elevato nell'ambito dei macchinari industriali, cioè vanno dai 3-4 mila euro per le macchine più piccole e semplici fino ai 50-60, raramente facciamo macchine che superano i 70-80 mila euro, per cui non sono macchine che possano pagarsi interventi o supporto magari da oltreoceano. Per questa ragione questa filosofia si è rivelata una filosofia di successo. Dunque, torniamo un attimo a quelli che sono i settori. Chiaramente al giorno d'oggi si etichetta qualsiasi cosa praticamente. C'è un settore in particolare in cui voi siete particolarmente introdotti o trasversalmente in qualche modo abbracciate un po' tutti gli ambiti? Le etichettatrici hanno la fortuna di essere richieste da un po' tutti i settori dell'industria perché quasi, per non dire tutti i produttori di beni di consumo, hanno in qualche modo bisogno di o decorare i loro prodotti, che tipicamente sono flaconi, bottiglie, prodotti che poi si trovano sugli scaffali dei supermercati, oppure di identificare gli imballaggi secondari, come possono essere scatole, fardelli, pallet, con etichette che a posto di essere decorative sono informative e hanno un utilizzo più nell'ambito della logistica. Però questo tipo di clientela copre tutti i rami dell'industria, dall'industria alimentare, l'industria cosmetica, l'industria chimica, quindi del personal care, piuttosto che prodotti per la cura della casa. Stiamo crescendo anche nell'industria farmaceutica, stiamo facendo un discreto numero di macchine anche per l'etichettatura di farmaci, confezionati in vari modi, possono essere blister piuttosto che siringhe, piuttosto che vials. Però vendiamo anche un discreto numero di macchine in settori che sono magari considerati marginali ma che comunque sono importanti, per esempio abbiamo un discreto numero di clienti che fanno componenti elettrici, oppure nell'automotive o nei casalinghi. Per cui diciamo che spaziamo un po' proprio in tutti i settori, che è la nostra fortuna, devo dire. Ok, quindi quasi 30 anni di storia, 10.000 metri quadrati, 50 paesi in cui viene esportato il prodotto Altec, 80 concessionari. Direi che i numeri sono molto incoraggianti. I prossimi appuntamenti dal punto di vista fieristico, presumo siano un po' i soliti più importanti. Sì, è proprio così. L'anno prossimo ne sono concentrati due, uno in primavera che è l'Interpac, che è la fiera probabilmente la più importante del mondo, è la fiera delle macchine per imballaggio per eccellenza, di cui l'etichettatura diciamo sono una parte delle macchine dell'imballaggio. Saremo presenti con uno stand molto rappresentativo nei nuovi padiglioni a Dusseldorf. E poi invece in autunno saremo anche presenti alla seconda fiera, diciamo per importanza mondiale, che è il Pac Expo di Chicago. Anche lì avremo uno stand, come nostra abitudine ormai partecipiamo, penso che sia la sesta edizione, ormai ho perso un po' il conto. Comunque sì, saremo presenti anche lì con uno stand diretto. Inoltre i nostri concessionari saranno a loro modo, secondo le modalità che loro preferiscono, presenti nelle loro fiere locali. Un ringraziamento quindi all'amministratore delegato Paolo Salvini, un ringraziamento ad Aldo. Grazie a tutti.